Ciao, sono Laura Liuzzi e sono una ricercatrice presso il Digicad all'Università di Dandì. Sono uno storico dell'arte e una curatrice, mi occupo di videoarte, di arte e femminismo e di media art. Ormai da tre anni sono nel comitato curatoriale del Media Art Festival, lavoro con le mie colleghe Valentina Ravaglia, Veronica Dauria e Isabella Indolfi, coordinati dal direttore artistico del Media Art Festival Valentino Carvicalà, per lavorare alla mostra e al programma di eventi che accompagna il festival. In particolare, nella mia ricerca curatoriale, cerco di sperimentare piattaforme orizzontali, interattive e partecipative con il pubblico, per raccontare la mia ricerca, che è in particolare su videoarte degli anni 70-80, su videoarte delle donne e su nuove piattaforme digitali.